Ai nostri microfoni Alessio Benedetti, il nuovo giocatore dell'Arezzo, allora qual è l'impressione di questi primi giorni con i tuoi nuovi compagni di squadra? Mi sono trovato subito bene, molti li conoscevo anche, quindi mi sono integrato subito, è un gruppo di ragazzi per bene, quindi siamo messi subito ad allenarci forte per cercare di trovare subito la vittoria e un cammino che possa riportarci più su in classifica. L'Arezzo è chiamato ad una impresa che in questo momento appare molto difficile, hai mezzi per rimontare, ma si sa che quando ci sono squadre a questi punteggi di distanza l'impresa non è mai semplice. Assolutamente, ma tanto noi dobbiamo cercare più che altro di pensare a noi partita dopo partita, ogni partita cercare di fare più punti possibile e alla fine dell'anno tireremo le somme. Te sei nuovo, però conoscervi già adesso, l'avevi già incontrato alcune partite fa, che idea ti sei fatto dell'ambiente in generale? Sì, l'ho incontrato con la Tiferno e ho visto subito una squadra importante per la categoria, sia i giocatori, i mister, tutto lo staff e anche la società e l'organizzazione che c'è e credo che ci siano tutti gli ingredienti per fare bene, ora sta a noi mettere in campo tutte le nostre risorse per portare a casa i risultati. Per la Serie D, Arezzo è veramente una bella piazza, la maglia Maranto fa sempre un certo effetto. Assolutamente, l'Arezzo non solo in Serie D, penso sia una delle piazze più importanti che ci sono, quindi sicuramente motivo d'orgoglio farne parte e spero di dare un contributo forte per risalire la classifica e fare il meglio per questa maglia.